Vieni, vieni, vedi? Bravo! Proviamo ancora Michele! È il pubblico applaude, il generale! Grazie, ci fermiamo! Grazie! Sangue, sangue, sangue! D'aria! Ecco la prova, leggi! Dopo quel minimo di corpante, basta! F***ing brilliant, chai, super! Attenzione, signori, 5 minuti all'inizio dello spettacolo! Tot di, da, tot di, tot, da, 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 da! A presto. A presto. Nel 1896, lei si può immaginare cosa era nel 1896 vedere la bohème, ascoltare la bohème. Era un'opera assolutamente rivoluzionaria. Do fa, do fa, do fa, do fa, pom, pom. È chiaro? Lo possiamo provare subito? Abbiamo numero uno? Allora dall'inizio, fresco, bello, capriccioso. Tra, ta, ta. Questo mar rosso mi abolisce a siderare. La bohème non è un'opera verista, è un'opera moderna in cui c'è una specie di canto continuo che non segue quelle regole. Lì ci sono due o tre romanze importanti. Niente. Niente. Spensierato, così come sono tutti questi poeti un po' giovani che sperano nel futuro, che anche se lui non ha soldi, che non ha niente, che gli mancano le scarpe, che gli mancano le cose, per lui non ha importanza. Perché lui sa che un giorno diventerà qualcuno che scriverà un capolavoro. Orchestra, vedo e con piacere che ci stiamo divertendo e veramente esaltare, vi prego, esaltare i piani dinamici. Perché allora è una grande, è una grande dialogo. Va bene? Allora, quando facciamo ti-ta-to-fiati, sapete dopo la corona, si può essere non troppo ti-ta-to-tati e un po' troppo seduto. Potete venire un poco con me. Facciamo da quattordici. Un po' troppo seduto. Anch'io da giovane ho sentito questo. Io sono figlio di siciliani, ho vissuto tutta la mia vita a Parigi, sono nato a Parigi e dunque conosco molto bene questa situazione del bohemian, che non ha una lira. Ma perché però, anche quando succede la serata buona, che allora arrivano un po' di quattrini, li spendiamo tutti, perché è la gioia di vivere. Noi abbiamo un ti-pa-pa, è molto bello se lo facciamo piano. 25, grazie. 25, M. Non sono in vera Tempi brillanti, tempi dove proprio anche con il mondo è un po' di quattrini, è un po' di quattrini, è un po' di quattrini. Questo quadro iniziale degli amici che si ritrovano contrastanti con questi momenti di grande abbandono, proprio per sottolineare l'incontro fra i due, che è vero che è un incontro fra due giovani che già al primo momento si amano e scocca la scintilla. Però, allo stesso tempo, lei è comunque un'eroina pucciniana, una delle famose eroine pucciniane, però intesa dallo stesso Puccini come dal fisico gracile, ma dal viso aristocratico. Si sente male Lui ha capito dall'inizio, forse, che questa mimì è malata, quando si sente male, lui ha capito. Ed ora cosa faccio, eccetera, eccetera. Lui sa che questa ragazza è fragile e anche c'è qualcosa che non va. Lui ha sentito, forse anche per questo lui si innamora di questo uccellino. Che gelida manina, se la lasci riscaldar, cercare che giova al buio non si trova. Ma per fortuna è una notte minura, è qui la luna, la piano vicina. Aspetti, signorina, regirò con due parole. Chi sono, chi sono, chi sono, chi sono, che faccio come vivo, cuore. Così è Rodolfo, perché ancora lui vive di speranza e d'amore. Lui spera di incontrare l'amore anche, perché questo quando vede Mimìa si innamora subito, è un colpo di fulmine, come è successo anche con Angela. Lui spera di incontrare l'amore anche, come è successo anche, come è successo anche, come è successo anche, come è successo anche. Scusami Roberto, perdonami, orche mi conoscete, lo possiamo fare un pochino più scorrevole? Se no siamo un po' indietro. Ma c'è una prima, speranza. Una prima di 34, grazie. Una prima. La Bohème per me è come l'ombelico del mondo. Allora per Angela, diciamo che ho finito l'Accademia di Musica con quest'opera, ho fatto la mia audizione a Covent Garden, ho fatto il mio debutto, ho conosciuto Roberto nella Bohème. Ci siamo sposati durante la recita di Bohème, allora ho una storia abbastanza lunga e speciale. Possiamo fare solamente da, mi chiamano mi mi il perché, non so. Allora facciamo da, molto bene, facciamo da mi, mi chiamano mi mi il secondo, ok? Prima da lentamente, sì grazie. Le viole, i secondi, re naturale, da lentamente. Re, 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 mi, solo signora. Re, mi, mi, mi. Mi chiamano mi mi il perché, non so. Solo mi vuoi il pranzo da me stesso, non ho levato sempre a me sa. Ma, prego e sei il signor, viva sola, solitta, lei è una bianca camionetta, bordo sui tetti in giù. Ma, prego e sei il signor, viva sola, solitta, lei è una bianca camionetta, lei è una bianca camionetta, lei è una bianca camionetta. Ma, prego e sei il signor, viva sola, solitta, lei è una bianca camionetta, lei è una bianca camionetta. Io mi ricordo quando sono stata studentessa, questo tipo di vita, di fare quello che mi pare. In un momento, non lo so, voglio andare a un teatro, voglio andare a fare una festa, voglio imparare, voglio studiare. Non importa che ora, faccio quando voglio, quando sento io. Non importa che ora, faccio quando voglio, quando sento io. Non importa che ora, faccio quando voglio, quando sento io. Non importa che ora, faccio quando voglio, quando sento io. Poi ovviamente abbiamo il secondo quadro con questo grandissimo... ...